Noi avevamo guardato tanti video, sapevamo come giocavano, aspettavamo di vincere onestamente, però non sai mai più che sei qua, comunque abbiamo contenuto bene la concentrazione, siamo tutti i due primi 6, siamo la difesa che era importante. Ovviamente abbiamo sofferto un po' la battuta con una squadra in battuta e noi cambiamo un pallone nel nostro campionato e lì avevamo offerto, ma sapevamo che sarebbe possibile più o meno quello che ci aspettavamo. Con questo sistema si perde in casa dopo che lo giocavano i 26 anni, noi dobbiamo vincere anche a casa. Sicuramente è una razione per noi per approfittare delle radici che vivono un po' o meno nel nostro campionato perché è gratitudine in un nuovo gioco, però è una cosa importante che noi prendiamo molto la situazione, la possibilità, se noi giochiamo bene penso che siamo superiori, però se ci rilassiamo e visto l'ultimo sei che non era facile.